Nel mio ruolo istituzionale Presidente di Federazione Ciai non posso che essere orgoglioso di essere qui stasera in questa festa, tanti invitati, abbiamo ministri, onorevoli e ha dimostrazione che la famiglia Franchini è una famiglia che nel tessuto industriale bresciano ha fatto molto, c'è anche una nuova generazione che si è integrata molto bene e è un'eccellenza della siderurgia italiana, per cui è un valore aggiunto in più che noi tutti gli siamo grati per quello che ha fatto, per quello che sta facendo e per quello che farà per il futuro di questo paese e soprattutto del territorio bresciano.